Ciao, Fra. Ciao a te. Come va? Tutto bene, te? Come stai? Bene. Quando mi sono sposata io pensavo che era diverso. A te non ti sembra che manca qualcosa? Ma ancora ho questa storia? Quando si separano, gli uomini diventano miserabili. Io ho scoperto che Marco c'ha una. Lui è amico di mio nonno. Sì, sì, è brutto, però sono tutti così. Chi è questo signore? Il mio dottore. Tu torni alle tre di notte con il tuo dottore. Cosa fa? Anch'io ti ho tradito. Che hai detto? Non ho capito. È grave? No. Sì. Ma avete fatto un casino? Io mi sa che sono innamorata. Mi sono ricordata com'è quando uno è proprio felice. Quando non vuoi più spiegare nemmeno un minuto. T'avevo innamorata pazza. Sì? Sì. Sì. Vedrà che qualcosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino.